San Girolamo ama la scrittura e la saggezza ti amerà. Nato a Stridone, antica d'Almazia, verso l'anno 347. Segue gli studi letterari a Roma e qui viene battezzato. Dopo aver abbracciato la vita ascetica, si reca in Oriente e viene ordinato sacerdote. Ritornato a Roma, diviene segretario di Papa d'Amazon e in quel tempo comincia la revisione e la nuova traduzione latina della Sacra Scrittura e promuove la vita monastica. Stabilitosi poi a Betlemme, prende parte molto attiva alle vicende e necessità della Chiesa. Scrive molte opere, specialmente commentari alla Sacra Scrittura. A una sua figlia spirituale raccomanda, ama la Sacra Scrittura e la saggezza ti amerà. Amala teneramente ed essa ti custodirà. Onorala e riceverai le sue carezze. Muore a Betlemme nel 420. Benediciamo il Signore. Grazie.